Il presidente Occhiuto sceglie la linea della continuità e promuove l'operato dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere. Va avanti l'iter per avviare i corsi di medicina all'Unical nonostante le polemiche, punto di snodo della vicenda alla nascita dell'azienda ad Urbecco. Occhiuto incontrerà il ministro. Bemolita la rotatoria su via Don Minzoni di Rende che ha creato disagi e polemiche il comune ammette l'errore ma sottolinea l'assessore Zicarelli è necessario limitare la velocità. Il senatore di Fratelli d'Italia, Raffani, presenta una interrogazione parlamentare sui ritardi nei lavori della ferrovia ionica, una delle poche in Italia a non essere elettrificata. La Befana arriva nelle corsie di pediatria e chirurgia pediatrica grazie agli agenti della Polizia di Stato, l'impegno del sociale e dei poliziotti che hanno portato doni anche nelle case famiglie della città dei Bruzzi. Cresce l'impopolarità del cosenza calcio, intanto le calabresi di Ibisi preparano a lottare per raggiungere i rispettivi obiettivi. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG in primo piano. La Sanità con la riconferma dei manager ai vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Il presidente Occhiuto, che è anche commissario della Sanità della nostra regione, sceglie la linea della continuità. Vediamo. Adesso c'è il decreto firmato. I commissari delle ASP e delle aziende ospedaliere hanno in tasca la riconferma. Graziano, De Salazzardi, Furia, Procopio, la regina Scaffidi potranno continuare a lavorare e mettere in atto il programma sottoscritto con il commissario Occhiuto nel momento in cui hanno incassato la nomina. Il lavoro occorrerà farlo bene e farlo subito, visto che i problemi negli ospedali e nelle ASP non mancano di certo. Il territorio dovrà recuperare in termini di presenza e di servizi, così come negli ospedali c'è tanto da fare. L'obiettivo principale è rimettere in sesto le strutture e renderle funzionanti e questo vuol dire assunzioni di medici, infermieri e ossa. La partita più importante è rappresentata dai pronto soccorso che necessitano di una robusta rivisitazione. I servizi legati all'emergenza urgenza sono deficitari. Qui, per esempio, mancano in Calabria 2.500 medici. Il problema, a dire il vero, non è mai stato affrontato dai commissari che si sono avvicendati negli ultimi 12 anni. Ai cittadini calabresi sono state fatte solo promesse, tante e troppe, che puntualmente sono state disattese. Se il sistema sanitario calabrese è in sofferenza da anni, lo è per incapacità di chi ha gestito in questi anni l'incapacità, l'ha fatta da padrone, le scelte si sono rivelate tutte sbagliate. E se i cittadini di questa terra continuano ad emigrare per curarsi, Beh, una domanda occorre che chi si è assunto l'onere di governare il sistema bisogna che se la faccia. Non è un caso se i LEA collocano la Calabria agli ultimi posti della graduatoria dei sistemi regionali del paese. Adesso che è stata avviata l'operazione Verità sul Debito, occorre proseguire garantendo uno standard accettabile nei servizi. E questo che i calabresi aspettano da tanto tempo sarà la volta buona, speriamo. E va avanti l'iter per avviare i corsi di medicina all'Università della Calabria. Nonostante le polemiche, il punto di snodo della vicenda, probabilmente la nascita dell'azienda Dulbecco e nei prossimi giorni il presidente della regione Roberto Chiuto incontrerà il ministro. Vediamo. Il corso di laurea in medicina all'Unical continua il suo percorso burocratico-amministrativo, nonostante le tante resistenze che provengono anche dal mondo accademico della Magna Grecia di Catanzaro. La lettera aperta del Senato accademico ha fatto rumore, certo che lo ha fatto, ma il dado ormai è tratto. Non ci sono minimamente presupposti per un passo indietro. Semmai occorre individuare la strada per la necessaria collaborazione. Anche l'amministrazione comunale della città capoluogo di regione ha pigiato il piede sull'acceleratore delle polemiche. Eppure in altre regioni tutto ciò non si verifica, si predilige il confronto e il dialogo. Si arriverà a questo? Beh, adesso qualche elemento in più per cambiare atteggiamento pare ci sia, visto che il presidente della regione la prossima settimana incontrerà il ministro per risolvere il problema che impedisce la nascita dell'azienda Dulbecco, che rappresenta il vero punto di snodo della vicenda. Si tratta di costruire il polo sanitario più grande del mezzogiorno, con 855 posti letto. Nella riunione tra Occhiuto e il rettore di Salvo è stato anche confermato l'impegno di 50 milioni per il finanziamento di contratti aggiuntivi per le scuole di specializzazione di area medica attive nell'Università di Catanzaro, già in essere dal 2023. Tutto finito dunque, Cosenza potrà procedere nell'organizzazione del corso di laurea in medicina e chirurgia senza ulteriori polemiche. Dopo 30 anni di attesa, l'Unical incassa l'obiettivo lungamente atteso, salutato con soddisfazione, oltre che dal rettore Nicola Leone, anche da chi, come i professori Caruso e Bruno, seguono da lontano l'evolversi della situazione. Bisogna assolutamente che ci siano più facoltà perché la regione cresca e dia numeri sufficienti ai propri ragazzi, ragazze che vogliono intraprendere questo tipo di studio, senza necessariamente mattarli sempre fuori, dove poi una volta che si stabilizzano queste persone trovano posti di lavoro, è difficile poi farli ritornare. In termini macro direi che è noto che dove si fa ricerca si cura meglio. Secondo il nostro sistema sanitario, quando dico nostro dico quello che Albrese soffre di una cronica carenza di personale, questo evidenziato anche dal fatto della necessità di prendere dei colleghi da altre parti del mondo. Basti pensare a quello che potrebbe essere l'indotto dei colleghi specializzanti in informazioni che diventano una forza lavoro veramente fondamentale e qualificata per l'assistenza negli ospedali calabresi. La politica con l'autonomia differenziata che divide le forze politiche, i partiti, Italia del Meridione dice no all'autonomia differenziata e pone delle condizioni. Vediamo. Non si è ancora spenta l'eco della visita del ministro Calderoli in Calabria. La politica si divide sull'autonomia differenziata. Oggi a prendere posizione Italia del Meridione con una lunga nota firmata da Orlandino Greco il quale esordisce dicendo che quello dell'autonomia differenziata è un tentativo di golpe leghista teso a recuperare il terreno elettorale perduto. Il messaggio che parte da Italia del Meridione è chiaro e cioè si potrà discutere di autonomia differenziata solo dopo aver garantito, precisa Orlandino Greco, l'unità del paese attraverso il calcolo e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il superamento della spesa storica e la ridefinizione finanziamento del fondo perequativo per i comuni. Tre condizioni nodi sono stati definiti da sciogliere. Solo successivamente si potrà iniziare a parlare di forme di decentramento. Al momento dunque Italia del Meridione continua a concludere la nota a difendere la Costituzione che unisce Nord e Sud e dunque l'Italia. La cronaca. Una bambina di 10 anni è morta in provincia di Reggio Calabria dopo essere stata travolta da un'auto sulla 2 all'altezza dello svincolo di Bagnara. La tragedia si è consumata ieri sera tardi quando la piccola era in viaggio sull'autostrada in direzione nord insieme alla madre e al compagno di lei, tutti residenti a Reggio Calabria. A un certo punto a causa di un guasto usciva fumo dal cofano dell'Audi A3 a bordo della quale stavano viaggiando, non riuscendo ad arrivare alla piazzola e per paura che l'auto prendesse fuoco il guidatore è stato costretto a fermarsi in una corsia d'emergenza. Nell'abbandonare il mezzo la bambina è scesa dal lato sinistro dove proprio in quel momento arrivava una Renault Clio guidata da un uomo di 60 anni originario di Oppido Mamertina. L'impatto purtroppo non ha lasciato scampo alla bambina che è morta sul colpo. Gli agenti della polizia stradale di Palmi e i medici del 118 intervenuti sul posto purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È stata demolita la rotatoria su via Don Minzoni. Siamo a Rennes, siamo nel Cosentino, una rotatoria che ha creato disagi e non poche polemiche. Il comune ammette l'errore ma sottolinea l'assessore Zicarelli è necessario limitare la velocità. Vediamo. Ecco la rotatoria della discordia, quella di via Don Minzoni a Rennes che si dice per un errore di progettazione è stata demolita. Può capitare, penso che capiti a tutte le persone che cercano di realizzare qualcosa, di sbagliare. Appena ce ne siamo resi conto siamo intervenuti e stiamo riposizionando la rotatoria. Riconoscere i propri errori è il modo migliore per intraprendere un nuovo percorso. Certo la viabilità resta un problema non da poco e forse bisogna individuare il modo migliore per limitare la velocità e garantire una tranquilla fluidità del traffico veicolare. Molti non parlano della velocità ormai che le macchine assumono sulle strade di renta perché il vero problema è questo, la rotatoria non è tanto la rotatoria in Zè è cercare di rallentare il traffico che ormai sulle nostre strade, vi parlo della 19 e la 19 bis perché non sono due strade cittadine, sono due strade di transito dove passano migliaia di automezzi al giorno anche perché subito dopo la rotatoria molti si dimenticano, fanno finta di dimenticare, c'è il liceo scientifico e molte volte i ragazzi che dovevano attraversare la strada lì sostano addirittura decine di minuti quindi viene la rotatoria a nascere proprio per rispettare il pedone e salvaguardare il più possibile per i cittadini dalla velocità che assumono le auto. E per i costi saranno i cittadini a pagare? Le rotatorie sono state realizzate con un finanziamento della regione, abbiamo rimodulato il finanziamento naturalmente si è tolto qualcosa per ampliare un po' le rotatorie, questo è successo, non ci sono costi aggiungivi mancherà qualcosa che sarà nostra premura a farla, però penso che, qua parliamo di qualche migliaia di euro sia zero rispetto all'utilità che questa rotatoria darà poi ai cittadini perché ve l'ho detto, il primo problema è quello di far rallentare le macchine. La ferrovia Ioni Carrapani presenta un'interrogazione parlamentare sui ritardi dei lavori il senatore di Fratelli d'Italia chiede conto a Trenitalia, a rete ferroviaria italiana per il tramite del ministro Salvini e una delle poche in Italia dice a non essere elettrificata, vediamo Ritardi nei lavori di adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria Ioni che è quanto ancora correrà per terminare l'opera strategica per lo Ionio Cosentino, sono le questioni che il senatore di Fratelli d'Italia Ernesto Rapani ha posto inviando un'interrogazione parlamentare corrisposta in commissione al capo del di Castero delle infrastrutture dei trasporti. La Calabria, sottolinea Rapani, attende dal 2018 che i lavori vengano terminati nella stazione di Corigliano Rossano e il termine ultimo era quello del 2023 ma ad oggi nulla sembra essere cambiato. Lavori sospesi, lavori fermi, lavori a rilento, ecco perché ho inteso fare un'interrogazione al ministro delle infrastrutture dei trasporti per chiedere a Trenitalia e RFI il motivo per il quale ancora nonostante stiamo per arrivare alla data di scadenza del contrattuale i lavori non sono completati e naturalmente non possiamo avere la possibilità di far viaggiare treni ad alta velocità su questa tratta ferroviaria. È mia intenzione andare a incontrare l'amministratore delegato di RFI di Trenitalia responsabile per la Calabria. L'inchiesta Reset revocata all'interdittiva per l'avvocato del foro Bruno Bruzio, scusate Pisani, revocato inoltre il divieto di dimora per l'assessore di Renne Munno. Vediamo. L'avvocato Paolo Pisani del foro di Cosenza può tornare ad esercitare la professione. Lo ha deciso il Tribunale di Riesame che accogliendo la richiesta dei legali del professionista Cosentino, Luca Ciardi e Cesare Badolato ha annullato la misura interdittiva emessa lo scorso mese di settembre. L'avvocato Pisani era stato coinvolto nell'inchiesta Reset della Didià di Catanzaro contro le cosche confederate cosentine. Era accusato di minacce. In una causa penale che coinvolgeva un presunto esponente delle cosche, secondo le accuse, il penalista sarebbe intervenuto affinché la parte offesa ritirasse la querela, circostanza che di fatto avrebbe poi favorito l'assoluzione dell'imputato. Accuse sempre respinte dal penalista Cosentino. Adesso, secondo i giudici del Riesame, l'attività di Pisani non ha mai leso o violato la deontologia professionale. Sempre nell'ambito dell'inchiesta Reset è stato revocato il divieto di dimora nei confronti dell'ex assessore comunale di Rende, Pino Munno. La revoca della misura è stata disposta dal GIP distrettuale di Catanzaro sul richiesto dell'avvocato Sabrina Rondinelli, difensore di Munno. L'ex assessore finì ai domiciliari ma poi Riesame modificò la misura cautelare con un divieto di dimora in tutta la provincia di Cosenza. Resta ai domiciliari però perché indagato in un'altra inchiesta della procura di Cosenza relativa alla gestione di gare e affidamenti fatti al comune di Rende, procedure che, secondo i magistrati, sarebbero viziate da presunte anomalie. La Befana oggi è l'epifania. Bene, la Befana arriva nelle corsie di pediatria e chirurgia pediatrica dell'annunziata grazie agli agenti della Polizia di Stato e l'impegno nel sociale dei poliziotti che hanno portato doni anche nelle case famiglia della città dei Bruzzi. Vediamo. La Befana fa tappa all'annunziata di Cosenza. Sono gli agenti di Polizia a portare i doni ai bimbi che trascorreranno il giorno di festa nella corsia dei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica. Un gesto dal grande significato, la vicinanza e l'impegno nel sociale degli uomini indivisa che hanno strappato un sorriso ai bambini e ai loro genitori. Un luogo di cura in cui si è voluta sottolineare la ricorrenza dell'epifania. L'iniziativa, ben accolta dal personale sanitario e dal managgio e mento ospedaliero, è stata realizzata grazie al contributo volontario del personale della Questura, Reparto Prevenzione Crimine Calabria e Polizia Stradale. Le volanti con a bordo la Befana non sono fermate solo in ospedale, ma hanno portato il loro carico colorato in alcune strutture che ospitano donne e bambini in difficoltà. Andremo nelle case famiglia dove ci sono bimbi che vivono un altro disagio e anche a quelli porteremo dei giocattoli, dei gadget, i cappellini della polizia, dei dolci, delle calze per regalargli un momento di gioia. A Civita adesso dove è stato ricordato il giurista Mortati, vediamo. A Civita si è tenuto un convegno per ricordare Costantino Mortati, giurista e costituzionalista di origini Arbresch, considerato tra i più autorevoli giuristi del XX secolo. La riflessione che abbiamo fatto insieme ad illustri giuristi dal mio punto di vista è stata quella soprattutto di attualizzare il suo pensiero. Noi sappiamo che c'è in atto una profonda discussione in questo momento del nostro Paese di revisione costituzionale legata soprattutto alla revisione della parte seconda della Costituzione. Io sono convinto che se Mortati fosse oggi in vita farebbe una grande battaglia a difesa soprattutto di quella straordinaria prima parte che riguarda la difesa dei diritti civili e sociali della persona. E poi nella sua Costituzione materiale un altro elemento che voglio sottolineare, l'importanza che Mortati dava alla funzione dei partiti politici. Avere avuto la possibilità oggi di parlare di così importanti temati come quelle legate alla storia della nostra Costituzione è una cosa che per noi ci fa onore e piacere. Il suo studio, la Costituzione in senso materiale, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento obbligato non solo per il cultore del diritto pubblico ma anche per il giurista Tocor. Siamo dinanti ad un gigante che ha lasciato un'impronta nell'intero secolo passato e che si è qualificato come uno studioso di diritto costituzionale importante addirittura a livello planetario. Recentemente il Presidente Occhiuto è inteso affidarmi un altro incarico di grande responsabilità. mi ha delegato ad essere assessore anche alle minoranze linguistiche, la minoranza a Brescia, la minoranza grecanica e la minoranza occitana. Oggi siamo a Civita per un convegno sulla figura di Costantino Mortati, uno dei padri della Costituzione che era di origine a Brescia e attraverso il ricordo di figure come Mortati che è stato considerato uno dei più grandi giuristi del Paese. Noi vogliamo con questo esempio rilanciare l'interesse verso le minoranze linguistiche, verso queste comunità. Il calcio adesso, il calcio di serie B, cenere e carbone per il Cosenza, mentre Dolciumi ha portato la Befana alle due formazioni che si preparano a lottare per raggiungere i rispettivi obiettivi. Vediamo. Il Cosenza non sta vivendo un buon momento, la popolarità del club è al minimo storico, i tifosi sono fortemente insoddisfatti, il timore che possa essere l'ultimo anno in cadetteria cresce sempre di più e la proprietà non fa nulla per alleggerire questa preoccupazione. Nei social ormai circola di tutto, dai bilanci degli ultimi tre anni allo sfogo duro, durissimo, dell'ex capitano Angelo Corsi, che rivolge pensieri di fuoco nei confronti dei responsabili che a suo dire l'hanno confinato ai margini del progetto e offeso con proposte inaccettabili. È un tutti contro tutti, come mai fino ad ora si era visto. Ciò che emerge è un pericoloso scollamento tra l'ambiente e il progetto calcistico cosentino, percepito come improvvisato e privo di qualsiasi obiettivo, a media e lunga scadenza. La campagna di rafforzamento che Gemmi avrebbe dovuto avviare già da qualche giorno, con l'innesso di calcatori di categoria e allo Stato, lettera morta, così come le promesse del presidente Guarascio, rimaste tali. Cosa sta accadendo? Nessuno è in grado di rispondere a questa domanda perché la società ha eretto un muro di protezione invalicabile e ciò che filtra è solo rumore, fastidioso quanto inutile. Domenica intanto si ricomincia così come si è concluso il 2022. Da ultimi in classifica e senza nessuna buona nuova, insomma il cielo è sempre più nero e gonfio di nuvoloni. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Regia Michele Cava, in Messinonda, Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e ancora una buona epifania. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e ancora una buona epifania.